Salve a tutti. Si risolve un dubbio che aveva animato il dibattito negli ultimi giorni, ossia se i vincitori e gli idonei al concorso straordinario potessero o meno accedere agli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS in quanto abilitati o meno all'insegnamento. Il dubbio derivava dal fatto che con il decreto legge sostegni bis era stata sostanzialmente rimodulata l'articolazione del concorso straordinario togliendo una gran parte della procedura, cioè la parte successiva alla prova scritta all'esito della quale avrebbe consentito il conseguimento e l'abilitazione all'insegnamento in favore dei vincitori e degli idonei. Il dubbio quindi era se chi avesse superato la prova scritta del concorso straordinario potesse essere considerato abilitato o meno all'insegnamento. Naturalmente la conseguenza alla risoluzione di questo dubbio era poter chiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS. Bene, è intervenuto dopo un confronto con i sindacati il ministero con la nota del 22 luglio scorso, chiarendo che i vincitori gli idonei al concorso potranno essere considerati abilitati all'insegnamento nonostante le modifiche in corse introdotte alla procedura in presenza di due condizioni. Essere inseriti nell'elenco non graduato o nella graduatoria di merito del concorso, avendo naturalmente superato le prove concorsuali, ed essere stati destinatari nell'anno scolastico 2020-2021 di un contratto a tempo indeterminato o ad un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. Quindi in presenza di queste condizioni i vincitori gli idonei al concorso straordinario sono considerati abilitati all'insegnamento a tutti gli effetti. Ciò consentirà loro di poter presentare entro i termini previsti la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, cosa particolarmente importante quest'anno vista la possibilità introdotta dal DL Sostegni BIS di essere assunti a tempo indeterminato anche dalle GPS. Sappiamo infatti che è stata introdotta una procedura straordinaria di reclutamento in esito al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato da graduatori di merito del concorso e da GAE anche ai docenti inseriti nella prima fascia delle GPS. Quindi va ad essere risolto un problema che sarebbe con molta probabilità sfociato in contenzioso e che per fortuna si è risolto positivamente per gli interessati. Bene, vi invito a seguire la tecnica della scuola sul proprio sito tecnica della scuola.it per essere costantemente aggiornati e i canali social della tecnica. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.